Ehi, lei con i bambini, quale futuro li aspetta e quale futuro lei si augura per i bambini di oggi? Presidente? Presidente? Muovite, muovite, cammina! Presidente? Presidente? Oh, che ci sei armato? Che dupalle! E' il tema di una rame! E' il tema di una rame! E' il tema di una rame! Andare l'idea di una rame! Porcadio! 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 L'Igno Torno! L'Igno Torno! L'Igno Torno!